dai dai che dolore mi ha fatto malissimo Matti sulla mano fammi vedere aiuto mi fa male brucia no 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 non voglio toccarlo bravissimo è vero guarda che cuccio lo chiamano dai Rocky vai un po' da Matti Rocky vieni qui guarda ti ha morso non mi ha morso ok ho capito lo accarezza lo accarezzo come devo fare Chiara ma sei grande come mai hai paura dei cani ma l'hai visto ha le zampe gigantesche ma basta che lo accaretti dai va bene ho capito lo accarezzo basta che lo chiami Rocky Rocky vieni qua mi stava per mordere vero mi stava per mordere è carino è un cucciolo è normale che dia i morsetti effettivamente avete ragione vabbè dai allora iniziamo a giocare un po' con lui Chiara sta per fare notte ma ma scusa ci è voluto un po' di tempo allora questa è la palla preferita di Rocky anche se l'ha rotta ma mi piace un sacco l'ha bucata lui si l'ha bucata lui quindi hai i denti che fanno male ma vabbè poco ragazzi ma sbaglio oggi ci sono più insetti del normale no Rocky non si mangia si poi con l'inizio della bella stagione è normale effettivamente sta arrivando la primavera ma stanno passando davanti a me tutte api calabroni che cosa sono ok non li guardare ma non è che magari ci vuoi far distrarre perché non vuoi giocare con Rocky perché hai paura effettivamente ma no no semplicemente avevo visto passare qualcosa davanti a me mi aveva spaventato dai dammi questa palla allora quale vuoi la palla adesso ti faccio vedere io come gioco con Rocky vediamo Rocky guarda qui cosa ho no guarda ti faccio vedere devo avvicinarsi a lui Rocky si vabbè però ragazzi se volete stare lontano allontanatevi dagli alberi c'è qualcosa che non va è la portatoria vedi non ci si può giocare con Rocky avevo ragione io e allora proviamo quell'ignetto ok va bene oddio ma quanti insetti ci sono spostiamoci da qui ciao piccolo Rocky poi tu sei carino ragazzi ci sono anch'io non c'è solo Rocky ragazzi sono qua guardate eccomi eccomi ma io voglio passaggi tutto il giorno con lui guardalo guardalo ok vai gioca guarda vai ve l'ho tirata ragazzi venite tu di salta salta è bellissimo eppure ci divertiamo un sacco venite Rocky Rocky giochiamo insieme vieni mi tira intorno ma forse vuole più bella zetta a me ma le vedi anche tu ancora una volta ma che cosa c'è ahia mi ha dato una testata sul mento eh vabbè ma ti deve giocare pure lui comunque stavo dicendo che è pieno di non lo so di insetti di moscerini non capisco sì forse perché siamo nel giardino vabbè Rocky andiamo vieni si è incastrato il cane sotto la mia gamba corri con me eh ragazzi che ne dite di giocare con le bolle guardate quanto sono divertenti anche le bolle mi hanno abbandonato mamma mia uffa io non so più cosa fare da sola Diego se n'è andato Ninna è andata a giocare con Rocky Matti pure e anche la mamma e io sono qua da sola senza giocare con nessuno amore non devi essere triste facciamo una cosa proviamo ad andare a convincere a giocare con te dai vieni però amore non mi guardare con quegli occhioni ti va di giocare con me? no ma eh scusate ragazzi eh lo so che il nuovo arrivato è fantastico è bellissimo sì ma che ne dite se giochiamo tutti insieme anche con Chiara a eh calcio abbiamo la porta dietro alle nostre spalle va bene ok ma Rocky può giocare con noi è così carino eh Chiara ma non ti devi arrabbiare no perché che c'è dimmi no perché voi pensate solo a cane va bene hai ragione Chiara giocheremo anche con te pronti per una partita di calcio? sì giochiamo tutti insieme manca qualcuno manca Diego 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 dove sei? ecco ti ecco ti ok e Rocky mi sa che se non vuoi prenderti una pallonata ti devi spostare iniziamo la partita sì ok sono il miglior sportiere del mondo parerò 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 qualsiasi valla ma non so se riuscirò a pararle con tutti questi insetti intorno a me levatevi per favore vai 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 sì non sono capace io vai Diego no non vincere bravissima dai dai giochiamo ancora questa volta non ce la farete a passare vai Diego tocca a te vai 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 stancante sì anche ho il fiatone anche se in realtà non mi sono mossa per niente ora è il mio momento dai io tipo per te Chiara 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 forse tirata forse un po' lontana ma dov'è la palla? non la vedo più io dobbiamo andarla a cercare dai andiamo io e te ok muovetevi a prendere la palla eh sì dai vogliamo giocare sì ci sono un sacco di insetti zanzani sì tu hai visto dove è andata la palla quando l'hai tirata? eh no vabbè cerchiamola ma quanti insetti ci sono oggi? ho paura che trovo qualcosa cosa? vieni ma c'è un terpente posso trovare oh forse è qua vieni aaaaaah che dolore ti è fatto malissimo matti mamma che dolore ma che è successo? ma che è successo? ma che è successo? ma che cosa è successo? aiutateci in qualche modo andiamo in un terpente giulia ma che cosa è successo? non so matti sietevi qui sietevi qui raccontateci che cosa è successo allora siamo andati a prendere la palla sì ma la palla non c'era? no siamo andati dietro un cespuglio e c'erano tanti moscerini calabroni però amore rilassati perché penso che tu tra poco scoprirai a piangere da come ti sento il problema è che non c'erano solo moscerini c'era anche un calabrone gigante e noi abbiamo iniziato a fare così ma mi appunto sul braccio anche a me sulla mano fammi vedere fammi vedere aiuto mi fa male brucia oh no giulia è ora che facciamo non lo so matti io non sono specializzata in punture di calabroni si sta gonfiando aiutateci ok senti non c'è tempo per portarle in ospedale dobbiamo fare qualcosa noi abbiamo bisogno di diego 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 vieni per favore vieni subito amore allora matti che dici garze si assolutamente diego abbiamo bisogno delle garze ok vai cassetta delle sono agitata vai a prendere delle garze aia eccole grazie mille diego bravissima ma matti scusami forse prima di disinfettare ho paura che ci sia il pugiglione dentro il pugiglione dentro aspetta diego non possiamo usare le garze ci serve prima una pinza per togliere il pugiglione corri ma non chiamate un dottore ninna non c'è tempo dobbiamo essere noi dottori oggi eccole ok grazie diego quindi è il momento no 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 fai prima chiara ok va bene però aspetta un attimo forse non posso togliere il pugiglione devo prima indossare dei guanti matti muoviti diego non posso usare le pinze senza i guanti mi servono dei guanti vedi i guanti grazie mille ah hai portato direttamente tutto il kit vabbè aspetti hai fatto bene secondo me si sta gonfiando io non sento più il sangue ok l'ho trovato ho trovato i guanti aspetta che lo metto non mi si mettono ninna non è possibile che ci devo aiutare io ecco grazie ok ninna questa cosa potrebbe fare un pochino male 3 2 1 ok fatto sono riuscito a toglierlo ninna adesso ti passerà ma mi fa male lo so lo so che ti fa male ma non ti preoccupare adesso dobbiamo togliere quello di chiara però ok chiara allora tu devi essere più coraggiosa ninna e fai una cosa prova a guardare in alto anzi no io non guardo in alto canta la tua canzone preferita no si dai no mamà io voglio usare così ok e al tre lo tolgo ci sono io chiara cantiamo insieme dai 1 2 3 no 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 tu non vinci hai già messo hai visto ok hai visto non te ne sei neanche accorta guardate che mega pugiglione che c'era dentro ora ora svengo no 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 tranquilla ma non è nulla figurati ok è tutto a posto adesso dobbiamo solamente far passare un po' di tempo no dovete metterci un cerotto giusto 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 avete ragione ok tornata e ho i cerotti col pesce e anche quelli col panda io voglio col panda io voglio col pesce ok va bene matti mi viene a dare una mano invece di stare lì scusate è che avevo un po' di fame e mi sono andata a mangiare qualcosina che lo metto io chiara non ti preoccupare comunque tu sei sempre il solito addirittura in questi casi di emergenza lui pensa a mangiare ok una due tre ok devo dire che è proprio bello questo pesciolino adesso tocca a me stai attenta che potrebbe fare un po' male ok ed eccolo qui il cerotto col panda proprio come hai chiesto tu carino vero sì bello ninna chiara dai venite a giocare adesso mi sembra che sia passato un paio d'ore da quando è successo che siete state punte dai dovete distrarvi un pochino però non ci fa ancora male esatto non riusciamo a correre e a fare altre cose io non riesco nemmeno a chiudere la mano mi fa male io però devo sedermi non riesco più non riesci più ragazzi eccoci eccoci che succede? chiara ok matti dobbiamo portarla in ospedale per forza dai andiamo andiamo sbrighiamoci forse qualcosa è andato storto nella medicazione dai andiamo dai iniziate a entrare in macchina sì ti aspettiamo ragazzi dovete sapere che i calabroni non sono cattivi solamente che bisogna stare molto attenti a loro perché se invadiamo i loro spazi loro diventeranno pericolosi solamente perché hanno paura di noi capito? adesso però meglio che vado eccomi grazie a tutti